Potrebbe approdare Delia Duran al grande fratello Vipsei? Sembra che il suo desiderio di entrare come concorrente nella casa di Cinecittà stia per realizzarsi. Alfonso Signorini starebbe per mettere in atto questo colpaccio, continuando a mantenere protagonisti Alex Belli e Soleil Sorge. Infatti, l'arrivo di Delia creerebbe indubbiamente nuove dinamiche. L'indiscrezione bomba arriva da Francesca Fredella su Libero Quotidiano. La moglie dell'ex attore di Cento Vetrine sarebbe già in quarantena forse per entrare nella casa. Non solo, anche Belli si sarebbe isolato, con lo scopo di non disturbare l'isolamento che Delia sta facendo. In effetti, nel corso della puntata di ieri Alex è intervenuto più volte attraverso il collegamento da remoto. Se ciò fosse vero, sicuramente Delia Duran regalerebbe dei colpi di scena. Non è di certo amatissima dal pubblico di Canale 5, dopo quanto accaduto nelle scorse settimane. I suoi interventi non sono stati particolarmente apprezzati, tanto che in tanti hanno accusato sia lei che suo marito di aver inscenato l'indiscrezione. L'hanno definita soppopera recitata male, che ha visto protagonista anche Soleil. Ed è proprio con quest'ultima che la Duran si scontrerebbe qualora dovesse entrare nella casa di Cinecittà. Questa sesta edizione del reality show di Canale 5 durerà fino al 14 marzo 2022 e Signorini deve trovare i giusti concorrenti per mantenere stabili gli ascolti televisivi. Delia Duran si unirà alle new entry del GFVP6. Questa sembrerebbe essere la carta su cui al momento il reality show starebbe puntando. Con il suo arrivo nel programma, Belli non verrebbe sicuramente messo da parte. Nelle puntate successive alla sua squalifica, Alfonso l'ha tenuto spesso inconsistente. Bisognerà però capire come prenderebbe il pubblico una decisione del genere. Alex e Delia non hanno di certo colpito in positivo il pubblico, anzi. Per quanto riguarda la data dell'ingresso, TV Blog anticipa che corrisponde al 3 gennaio 2021. Dunque, sembra che lunedì la Duran entrerà. Per quanto riguarda la data dell'ingresso, TV Blog anticipa che corrisponde al 3 gennaio 2021. Grazie a tutti